Musica Elezioni comunali a Isernia e sfida 3-7 le liste che appoggiano Gabriele Melogli, 5 quelle per Castrataro e 5 per Tedeschi, tutti i nomi dei candidati sindaci nei 16 comuni della provincia di Isernia e 14 di quella di Campobasso. Open day vaccini all'auditorium di Isernia dopo Campobasso e Termoli, somministrazioni anche nel capoluogo Pentro, discreta l'affluenza, l'appello del direttore generale dell'ASREM, Florenzano, bisogna vaccinarsi. Sono arrivati in Molise 63 afghani, 31 sono dislocati in provincia di Isernia, 32 in quella di Campobasso, sono per lo più famiglie con bambini, sono arrivati dall'Abruzzo dopo la quarantena. Tratturi e sviluppo turistico, progetto in fase di avvio, il sindaco di Campodipietra, comune capofila del piano da 130 milioni finanziato con fondi dell'Unione Europea, ha fatto il punto sullo stato dell'iniziativa Convegno in Paese. Oggi Campobasso in casa contro il Taranto alle 20 e 30, la gara al Selvapiana per la seconda di campionato alle 20, in diretta la trasmissione Rosso-Blu Gol su Telemolise per seguire live la partita con Interviste. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Come avete sentito nei titoli è scaduto a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste elettorali per l'elezione di numerosi sindaci della regione. Il comune più grande interessato al voto è quello di Isernia, dove sono in tre a sfidarsi. Tre i candidati sindaci, Gabriele Melogli con sette liste, Cosmo Tedeschi e Pietro Castrataro con cinque liste a testa. Ma dovremmo essere in collegamento con Enzo Di Gaetano, proprio da Palazzo San Francesco, che ci dice tutte le novità, a te Enzo la linea. Grazie Tonino qui per un primo commento dopo la presentazione delle liste. Siamo con Vittorino Facciolla per il centro-sinistra, Mimmo Izzi per il centro-destra. Allora Facciolla potrà approfittare il centro-sinistra della divisione del centro-destra per vincere Isernia? Lo speriamo anche perché il centro-sinistra ha un ottimo candidato. Piero Castrataro che è un ingegnere nucleare, molto ben inserito nel contesto sociale di Isernia con delle ottime idee ed è supportato, devo dire questa volta, da una coalizione ampia che beneficia anche dell'accordo nel perimetro del centro-sinistra anche con il Movimento 5 Stelle e che ha completato le liste, sono delle ottime liste e quindi noi siamo molto speranzosi di un risultato buono per la coalizione. Isernia insieme a diversi altri comuni e città italiane, a Isernia si prova l'alleanza PD 5 Stelle. È un test anche per le future regionali, Facciolla? Ma potrebbe esserlo. È chiaro che noi siamo dentro dinamiche che scontano anche le decisioni dei partiti nazionali. Se così dovesse essere proseguiamo su questa strada, ma io come ho sempre riferito il Partito Democratico deve anche guardare all'elettorato moderato. Insieme al Movimento 5 Stelle in questa fase certamente provando a costruire una alleanza più strutturata che non sia solo su base programmatica ma che sia anche su base politica. In questa direzione abbiamo provato l'esperimento a Isernia, come già era accaduto in altre realtà nel contesto del Paese e devo dire francamente l'abbiamo fatto anche nei piccoli centri dove siamo riusciti a chiudere accordi con esponenti del Movimento 5 Stelle pur senza utilizzare il simbolo. Quindi bene così andiamo avanti e proviamo ad elevare la qualità scegliendo delle candidature come è accaduto a Isernia che sappiano intercettare il consenso dei cittadini che nelle stesse candidature e nella qualità dei programmi possono riporre una bella speranza di futuro. Mimmo Izzi, l'altra parte, il centrodestra è diviso a metà, un centrodestra che affronta queste elezioni con il rischio di perdere proprio per questa divisione. Beh oddio, andare divisi c'è questo rischio però credo che abbiamo messo su in diverse liste competitive. Abbiamo, almeno per quanto riguarda la nostra partenza politica, un candidato che è Brimerogli che tutti conoscono, tutti sanno il suo passato. Io sono stato in giunta con lui per più di dieci anni quindi sono state fatte cose egregie per la città quindi noi andiamo avanti in questa direzione. Mimmo Izzi, a capo della sua lista c'è un assessore regionale Filomena Calenda una nuova acquisizione dell'Udc oppure solo una candidatura per Isernia? Ecco, che c'è dietro questa candidatura? Allora, con Mena Calenda c'è sempre stato un rapporto molto vicino all'Udc io ricordo quando ha fatto l'assessore alle politiche sociali sia al comune che in provincia con lei abbiamo avuto sempre delle ottime sinergie tutti sanno che è molto presa anche lei per il sociale e quindi credo che non è stato un incontro casuale ma è stato un percorso che in effetti l'ha portata ha deciso, bontà sua, di candidarsi con l'Udc quindi con gli stessi valori nostri con le stesse idee nostre per cui noi l'abbiamo accolta ben volentieri. E ora sentiamo la terza campana, quella dell'altro centro-destra abbiamo intervistato Filoteo Di Sandro vediamo l'intervista Filoteo Di Sandro ha fatto comunicato in cui si è dichiarato soddisfatto della lista che avete presentato ottimista in riferimento al risultato? Sì, abbiamo presentato una bellissima lista, devo dire forte ci sono dieci uscenti, poi ci sono nuovi ingressi, giovani, donne insomma una bella lista a sostegno del sindaco Cosmo Tedeschi siamo molto molto fiduciosi per il risultato finale Secondo lei la spaccatura del centro-destra influirà sul risultato finale? Ma questa spaccatura è stata voluta in maniera forte da parte di Forza Italia per isolare Fratelli d'Italia e per isolare Michele Iorio non riusciamo a comprendere fino in fondo le motivazioni però se ne assumeranno la responsabilità se il centro-sinistra vincerà al comune di Isernia la maggiore responsabilità è di Forza Italia e devo dire anche della Lega Bene, per il momento è tutto Tonino da Palazzo San Francesco se non hai altre domande ti restituisco la linea Grazie Enzo, nessuna domanda Poi nel Tg delle 19.30 tutti gli aggiornamenti tutte le novità, tutti gli approfondimenti Adesso vediamo quali candidati a sindaco nei 14 comuni della provincia di Campobasso dove si voterà il 3-4 ottobre Sentiamo il servizio di Anna Maria Di Matteo Sono scaduti oggi a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste alle amministrative del 3-4 ottobre In provincia di Campobasso sono 14 i comuni chiamati al voto tutti al di sotto dei 3.000 abitanti dunque non è previsto l'eventuale turno di ballottaggio A Baranello sfida tra Mario Liberato Di Chiro e Riccardo Di Chiro A Casacalenda l'uscente Sabrina Lallitto se la vedrà con Antonio Galasso A Civita Campomarano il sindaco in carica Paolo Emanuele si sfiderà con Giovanni Marsiglio mentre a Guardia Regia sono 4 i candidati alla carica di primo cittadino l'uscente Fabio Iuliano, Costanzo Sampogna, Giovanni Dandola e Nicola Barbiero A Matrice due le liste, quella capeggiata dal sindaco in carica Arcangelo Lariccia e l'altra dello sfidante Michele Cirino Due candidati a Molise, l'uscente Domenico Cirelli e Nicolino Libera a nome Tre candidati alla carica di sindaco a Morrone del Sannio Stefania Pedrazi, Michele Palange e Luca Ambrosio A Portocannone sfida due tra l'attuale vice sindaco Francesco Gallo e Adamo Gallo A Rotello il vice sindaco uscente Massimo Marmorini Se la vedrà con Augusto Altieri Mentre a San Biase le liste in campo sono 5 Tre di rappresentanti delle forze dell'ordine Poi c'è quella capeggiata da Anna Maria Boccardo E l'altra da Tonino Marchetta Unico candidato a San Giacomo degli Schiavoni Con l'uscente Costanzo della Porta Mentre a San Massimo le liste sono 4 Quella del sindaco in carica Alfonso Leggeri Gli altri candidati Gino De Gregorio, Nunzio Pizzuto e Rosario Di Santillo A seppi nel sindaco Paolo Pasquale Danello si scontrerà con Carlo Di Benedetto Mentre a Ururi i candidati sono 3 L'uscente Raffaele Primiani, il vice sindaco Laura Greco e Antonio Cocco E adesso conosciamo i candidati a sindaco nei 16 comuni della provincia di Isernia Dove si vota oltre ovviamente al capoluogo Pentro Sentiamo Barbara Fino 16 comuni della provincia di Isernia oltre il capoluogo In cui si vota per eleggere il sindaco il prossimo 3 e 4 ottobre Per il comune di Acquaviva di Isernia si ripropone Francesca Petrocelli Sindaco uscente che se la dovrà vedere con Mario Spaziano A Bagnoli del Trigno la sfida è tra Gianni di Tosto e Giancarlo Ianiero Per Cantalupo del Sannio unica lista presentata Quella del sindaco uscente Achille Caranci A Capracotta Candido Paglione dovrà vedersela con Massimiliano d'Achille Mentre per Carpinone due sindaci in competizione Pasquale Colitti già sindaco e Luciano Parisotto Nessuna lista presentata per il comune di Chiauci Che dovrà rimettere la sua amministrazione ad un commissario Collio a Volturno vedrà in sfida Emilio Incollingo sindaco uscente Contro Antonia e Ranieri Fuori del Sannio si prepara ad una competizione Tra Roberto Calabrese e la sua storica avversaria politica Sonia Lepore Per Monteroduni fino ad ora commissariata Si candidano alla carica di sindaco Anna Carla Mollichelli, Nicola Altobelli e Francesco Iannarelli A Pesca è una sfida tutta al femminile Con tre candidate Maria Antenucci, Mari Capalumbo e Francesca Notte Si ricandida il sindaco Manolo Sacco Per il comune di Pescolanciano Questa volta concorrendo contro Nicola Di Frangia Pizzone commissariata ha due candidati sindaci Di Cristofaro e Di Iorio A Rocca Mandolfi unica lista presentata Quella di Giacomo Lombardi, sindaco uscente Per San Pietro Avellano infine Due candidati alla carica di primo cittadino Giuseppe Sebastiano e Simona De Caprio Adesso i dati Covid con l'ultimo bollettino Che fa registrare 11 nuovi positivi Di cui numero maggiore 4 rispettivamente ad Agnone e Monte Falcone nel Sannio E 6 sono i guariti C'è un nuovo ricovero in malattie infettive al Cardarelli Dove i pazienti con Covid in cura sono 12 I tamponi processati sono stati 486 Gli attualmente positivi sono 241 Intanto nel monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità In Molise l'indice RT questa settimana Passa da 0,52 a 1,26 L'incidenza dei nuovi casi Che ha la soglia di allarme fissata a 50 casi Ogni 100.000 abitanti In Molise si attesta 41,1 contro 22,6 di una settimana fa Sul fronte ospedaliero in regione si registra il 4,5% Dei posti occupati in area medica Zero in terapia intensiva Open day vaccini anche a Isernia Oggi mille le dosi disponibili L'appello del direttore generale dell'ASRE Moreste Florenzano Bisogna vaccinarsi Sentiamo ancora Barbara Fino Una discreta affluenza di Isernia Per l'iniziativa promossa all'auditorium Unità d'Italia Vacciniamoci L'open day promosso dalla regione Molise In collaborazione con l'ASRE Un centinaio le persone che hanno raggiunto il punto vaccinale Per il Vax Day Già dalle prime ore del mattino Maggiore sicurezza per se stessi Per il resto della comunità Secondo la maggior parte delle persone Che oggi entrano a far parte dei vaccinati Sapevamo che c'era l'open day Siamo venuti qua direttamente Non abbiamo perso tempo Qual è stata la motivazione? La motivazione è stata quella di stare più tranquilli Quindi di fare tranquilli sia noi sia gli altri E anche per fare le attività sportive Altrimenti non può fare né palestra né piscina né niente Perché ha deciso di farlo proprio oggi? Era un po' indeciso all'inizio Ma poi... Adesso si è convinta? Si è tranquillizzata? Si, si, si Ci sono meno probabilità che mi prenda il Covid E sta a posto così Poi ti puoi muovere anche di più Diciamoci la verità Si, si Molti, molti, molti ragazzini Sono venuti perché abbiamo due pediatri L'hanno organizzato molto bene Con due pediatri Ed effettivamente Tra i 12-15 anni È la fascia più scoperta Quindi di questo Sono molto contenta Abbiamo pensato per le prossime settimane Di organizzare dei giorni Con meno dosi E con meno disponibilità di tempo Però ad accesso libero Perché effettivamente È più facile per le persone È un team veramente eccezionale Oggi ci sono stamattina Cinque infermieri E oggi pomeriggio Quattro infermieri Ho coinvolto anche Dieci studenti del corso di laurea In infermieristica Gli operatori Sociosanitari Durante la mattinata Gli operatori del punto vaccinale Con a capo il direttore generale Asre Moreste Florenzano Hanno anche intrapreso Un'operazione di divulgazione Presso il mercato comunale Nel centro storico di Sernia Per incentivare Anche i più diffidenti A vaccinarsi Noi stiamo girando qui Con due squadre Insieme al direttore sanitario Anche per il mercato di Sernia Perché vogliamo incentivare Quanto più possibile Le persone a vaccinarsi Oggi dalle 8 alle 20 Abbiamo a disposizione Questa possibilità È importante Che le persone aderiscano E vengano numerose Non voglio fare Un terrorismo psicologico Ma il tasso di ospedalizzazione Che abbiamo In questo momento È più del 90% Per persone Non vaccinate Con il covid Quindi è importantissimo Sottoporsi a vaccinazione Girando Qui sul mercato Ci sono alcuni Novax Ma ci sono anche Delle persone Che insistono Insistono Perché tutti lo facciano Ma gente comune Seduta al bar Tranquilla E che non capisce Perché non ci sia Questa resistenza Destinatari Dell'open day I cittadini Dai 12 anni in su Con testera sanitaria E documento Di riconoscimento Alla mano Per poter approfittare Di una delle mille dosi Previste Per la giornata vaccinale Un segnale incoraggiante Per poter uscire Ancora prima Dalla pandemia Da covid-19 Il vaccino Ha documentato La sua efficacia Quindi Lo sperimentale È fuori luogo Perché sul campo Il vaccino Ha dato La risposta Giusta A questo covid Non si ricoverano Quelli che sono vaccinati Si ricoverano E stanno male Quelli che non sono vaccinati Polemica A campo basso Per i cartelloni Novax Comparsi in città I consiglieri comunali Del PD E della sinistra Parlano di pericolosissime falsità Novax Esposte a caratteri cubitali All'amministrazione Chiedono una netta E condivisa posizione politica Su quello che definiscono Un grave fatto Siamo ancora in emergenza Nazionale e mondiale La tutela della salute E della vita Di cittadini e cittadini È diritto inviolabile Ribadiscono Battista Chierchia Salvatore Trivisonno Si tratta di manifesti Dai contenuti Deliranti e pericolosi Si afferma invece il capogruppo della Lega e Municipio Alberto Tramontano Vedere questi manifesti con malafede e astuzia Istillano pure infondate notizie nei cittadini E soprattutto nei più giovani Fa male e fa riflettere Gravissima la responsabilità dell'amministrazione gravina Che consente tali affissioni Senza controllo su contenuti e committenti Conclude Tramontano Intanto la Digos di Campobasso Sta svolgendo accertamenti Per verificare se sono ravvisabili eventuali reati In merito alle affissioni E sulla vicenda L'amministrazione comunale Ha precisato che si tratta di affissioni Avvenute su spazi pubblicitari Gestiti dalla società privata Che ha in appalto questo servizio Sono arrivati in Molise 63 cittadini afghani Divisi tra la provincia di Campobasso E quella di Isernia Per lo più famiglie con bambini A termoli Nella struttura Isola Felice E della misericordia Il comune ha accolto sette profughi Di cui due minorenni Sentiamo Manuela Iorio Sono arrivati in Molise 63 cittadini afghani Accolti nell'ambito del ponte umanitario Tra Italia e Afghanistan Creatosi in seguito Alla presa del potere dei talebani L'arrivo è stato gestito Dal Ministero dell'Interno In accordo con la prefettura 31 profughi sono stati sistemati Nella provincia di Isernia 32 in quella di Campobasso Famiglie con bambini Ospitate tra Termoli Campobasso Isernia Alcat di Roccaravindola Accolti dalla polizia I bambini hanno ricevuto in dono Quaderni e colori Come disposto dal questore di Campobasso Giancarlo Conticchio Sono sette cittadini afghani Di sesso maschili Arrivati ieri sera a Termoli Tre sono fratelli Di cui due minorenni Sono stati accolti Dall'amministrazione comunale Nella struttura Isola Felice Della misericordia Dove hanno trovato Un pasto caldo È una stanza In cui sistemare Le poche cose Che sono riusciti A portare via Nella fuga I sette afghani Sono in buone condizioni Di salute E alcuni di loro Parlano anche l'italiano Come riferito Dall'assessore Alle politiche sociali Del comune di Termoli Silvana Cicciola Che si è occupata Che si è occupata Dell'accoglienza Sono arrivati ieri In tarda serata Le nove nove e mezza passate Le stanze erano già state preparate Due stanze Sono arrivati sette cittadini Di sesso maschile Tre fanno parte Di un nucleo familiare Altre quattro no E quindi sono stati sistemati Quindi l'accoglienza è stata Loro ci hanno ringraziato subito Erano stanchi Provati si vedeva Intanto poi sono stati Accompagnati Nella sala Per la cena Quindi accolti veramente Con grande Entusiasmo per noi Perché capiamo Da dove vengono E quello che hanno vissuto Visite mediche E assistenza sanitaria Questa mattina In accordo con l'ASREM Mi sono messa in contatto telefonico Con la dottoressa Montanaro Molto disponibile Stamattina ci ha mandato Due dottori Per compilare E vedere un po' Di che cosa hanno bisogno Se devono fare vaccini E sono già pronti Possiamo già farli Però quindi Fare una scheda tecnica Medica Sullo stato di salute Di questi nostri ospiti Quali sono le disposizioni Per quanto tempo Resteranno qui Questi cittadini afghani? Allora non abbiamo disposizioni in merito Noi li dobbiamo accogliere In questo diciamo In questa permanenza Qui da noi a termo I cittadini potrebbero anche Chiederci di spostarsi In altre regioni Per esigenze Che poi dovranno Provarci E devo dire Che stamattina Già un ospite Ci ha detto Che dopo l'eventuale quarantena Vuole spostarsi A Milano Vedremo come E se sarà possibile E poi Insomma Verrà fatto Questo trasferimento Per ora Non sono previsti Altri arrivi Ma in caso contrario Il comune È pronto ad accogliere Se i minorenni Continueranno a restare A Termoli Per loro Verrà disposto Anche l'inserimento A scuola Furto nella serata Stadi ieri Al supermercato Tigre Amico Di Difesa Grande A Termoli Un uomo Col volto coperto Dalla sola mascherina Si è introdotto Nell'ufficio del negozio Prelevando l'incasso Della giornata E lasciando l'attività Senza destare sospetti Come se fosse Un normale cliente Solo qualche minuto Dopo I gestori Non trovando L'incasso E visionando La registrazione Delle telecamere Hanno visto L'uomo Che prendeva i soldi Circa 30 anni Indossava bermuda Di jeans Infradito E una maglia chiara A maniche lunghe Questa la sua descrizione I carabinieri Hanno acquisito Le immagini Di video sorveglianza E hanno avviato Le indagini Torniamo adesso A parlare Di tratturi E sviluppo turistico Il comune Di Campodipietra E capofila Di un progetto Finanziato Con 130 milioni Di euro Di provenienza europea Un'occasione unica Per lo sviluppo Del territorio Da Campodipietra C'è per noi Pasquale Di Bello Insieme al sindaco Del paese Giuseppe Notar Tomaso Siamo sul tratturo Lucera Castel di Sangro Nell'agro Nel comune Di Campodipietra Insieme al sindaco Della cittadina Peppe Notar Tomaso Campodipietra E comune Capofila Di una serie Di comuni Che hanno ricevuto Un finanziamento Importantissimo Per la valorizzazione Dei tratturi Circa 130 milioni Provenienti Da fondi europei Campodipietra Ospita un importantissimo Convegno Che ha al centro Sempre il tratturo Allora sindaco Di che cosa si tratta? Abbiamo voluto fortemente Questo convegno a Campodipietra Perché il programma Gias Della FAO Si propone Di intercettare E promuovere Tutti quei paesaggi Quindi quei territori Ricchi di biodiversità E per promuovere Anche quelle attività Poi adesso connesse Che siano potenziali Attività appunto Che possono promuovere Un intero territorio Quale posto migliore Del tratturo appunto Che per Naturalmente È un luogo ricco Di presenza Quindi appunto Di biodiversità Ecco sindaco Facciamo anche Il punto Sul progetto Che vede il suo comune Capofila Qual è la situazione In questo momento? Quando si partirà Effettivamente? Stiamo aspettando Semplicemente La nomina Del nuovo responsabile Unico del contratto Da parte del governo Perché è caduto Con il governo Conte Quindi adesso Spero a breve Nomineranno Il nuovo RUC E stiamo Credo A breve Sottoscriveremo Un protocollo Con L'Università Del Molise Che sarà un partner Importante Del progetto Come Un altro protocollo Sottoscriveremo Con il comune Di Caltanissetta Capofila Di oltre 100 comuni Dell'Interland Dell'interno Del Siculo Il progetto È molto ambizioso È il primo parco mondiale Dello stile di vita Mediterraneo Ecco il tratturo Non solo come elemento Del paesaggio E quindi di valorizzazione Dell'ambiente Del territorio Ma anche come opportunità Lavorativa Ma certamente Questo è l'obiettivo È vero recuperare i tratturi Nella loro interezza E quindi percorribilità Ma questo finalizzato Ad un utilizzo turistico Pensando al turismo lento Ma non soltanto Penseremo ad un bike sharing Su tutto il territorio Quindi Con passeggiate con cavalli Con macchine elettriche Da fuoristrada Insomma Un insieme di cose Non tralasciando invece L'altro aspetto Molto importante L'enogastronomia Che poi naturalmente Porterà con sé Anche uno sviluppo Dell'agricoltura Bene Con questo grande progetto Che parte proprio da qui Da Campo di Pietra Lo ripetiamo Siamo lungo il tratturo Lucera Castel di Sangro Un progetto che apre A grandi possibilità Non solo per la valorizzazione Dell'ambiente Del territorio Ma anche grandi possibilità Lavorative Da Campo di Pietra È tutto Grazie Pasquale Si sono svolti ieri All'Università del Molise I test di selezione Per l'ammissione Alla Facoltà di Medicina Vediamo i commenti E le impressioni Degli aspiranti medici Nelle interviste Raccolte da Enzo Luongo All'uscita dall'Ateneo Subito dopo lo svolgimento Delle prove Pochi minuti Prima delle 15 Dall'edificio Dell'Università Stanno per uscire I ragazzi Che hanno appena Sostenuto il test Di selezione Per l'ammissione Alla Facoltà di Medicina Fuori c'è tutta l'ansia Dei genitori Decine e decine di persone In attesa dei propri figli E con la grande apprezzione In attesa di sapere Come è andata Uno dopo l'altro Gli aspiranti dottori Escono ognuno Con le proprie impressioni Tra chi è soddisfatto Sorride E abbraccia gli amici E chi invece è deluso E ha sul volto Anche qualche lacrima Da dove vieni? Campo basso Ah quindi giocavi in casa Come è andata? Non ha basso Sembra bene Però bisogna comunque vedere Hai trovato difficile il test? Ma per alcune cose sì Per altre non tanto Sembrato abbastanza semplice Almeno rispetto a quello Dell'anno scorso Molto molto di più E le domande erano più semplici Da quello che ho potuto vedere Non è andata bene Non sei fiduciosa? Te l'aspettavi più semplice? Sì Sì Un po' più semplice L'ansia Pesa o non pesa In una prova come questa? Relativamente Relativamente Pesa più lo studio E Lo studio Da dove vieni? Termoli Penso bene Pensi bene? Sì Mi auguro di sì Da dove vieni? Un venafro Te l'aspettavi più semplice Più difficile? No Le mie aspettative sì Avevo fatto anche veterinario Quindi avevo già inquadrato un'idea Speriamo bene Sono fiduciosa Allora Era abbastanza impegnativo Cioè Non era molto semplice Però diciamo che Con un buono studio E una buona preparazione Si poteva anche affrontare Abbastanza bene È stato difficile Soprattutto nella parte di chimica e fisica Però Speriamo 330 I candidati per 110 posti disponibili Alla fine ce la farà ad entrare Solo uno su tre Per i candidati 100 minuti a disposizione Per rispondere alle domande 60 domande Era diviso in una parte di biologia Una di chimica Una di logica E poi matematica e fisica La parte più complicata? Cultura generale Una prova diversa rispetto al solito Quella di quest'anno Perché è avvenuta con le rigide regole anti-covid Tutto comunque ha funzionato alla perfezione Perfetti Sembra veramente rigorosi In tutto In realtà è stato tutto molto fluido Diciamo Ci hanno spiegato tutto benissimo Quindi È stata solo l'ansia Sempre l'ansia del test Che viene un po' così Ma è normale E in bocca al lupo Questi ragazzi Andiamo adesso a Colle d'Anchise Dove c'è stata la festa Per gli anziani Una giornata di musica Ma anche di riflessione Con un convegno sull'emigrazione E poi il racconto Di un ultracentenario Emigrato in Germania Da Capracotta Che ha vissuto anche La dura esperienza Della prigionia Durante la seconda guerra mondiale Sentiamo Molise è terra In cui la popolazione Anziana è consistente Patrimonio di saggezza Di esempi E memoria storica Anziani Custodi della nostra identità A Colle d'Anchise La fondazione Anchise Onlus Che promuove il volontariato Il mutuo soccorso E la buona salute Ha organizzato una festa Dedicata proprio agli anziani Con un obiettivo Cercare di costruire socialità Fare in modo Di costruire servizi Per assistenza agli anziani E alle persone in difficoltà L'idea cardine dell'iniziativa Un raduno Il terzo dei centenari Non solo dall'Italia Il Covid Purtroppo ha limitato il tutto Donato Pollice 101 anni Però ha voluto esserci Lui che è di Capracotta Emigrato 60 anni fa In Germania Per lavorare In una cava di pietra Prima e poi in una cartiera Io sono andato in Germania Nel 1960 Da Capracotta Nel 1966 C'è portata anche la famiglia Questa è concentratica Qua all'Italia Non si stava tanto comodo Ha scelto di rimanere In terra tedesca Senza mai dimenticare Le sue radici E la volta l'anno Finiamo tutti gli anni Un mese Due mesi E poi E torniamo Una vita dura Quella di Donato Pollice Di lavoro e sacrificio Ma anche di gioie familiari Da giovane è stato pure prigioniero Di guerra Hanno preso i prigionieri Alla Libia Hanno tenuto per il tempo L'APA Visto che considerate Che all'Inghilterra Mancava personale Perché i giovani Stavano tutti via Ci hanno mandato L'APA Per lavorare Secondo il posto Che avevano paura Di sabotaggio Mandavano Non riparare la strada O con il muratore O con altre persone Che loro giustamente I prigionieri C'erano paura Non si sa Ma succede qualche sgarbo Qualche cosa Poi ci guardavano E poi poche persone C'erano Un soldato Che un fusile addosso Che ci guardavano E la sera Si ritornava Il campo Concentramente In Piazza Italia Colle Danchise Comunque la festa Non è mancata Nel rispetto Delle normative Per evitare il contagio Esibizioni Folcloristiche Musicali Costumi Del territorio Protagonisti Gli zampognari Del Matese Una banda tedesca Non poteva mancare Il campione italiano Di fisarmonica Diatonica Angelo Lucarelli A seguire un convegno Sull'emigrazione Il presidente Della fondazione Anchise Onlus Carmine Lucarelli Ha voluto Rivolgere poi Un sentito E commosso pensiero Ai suoi compaesani Vittime del covid Volevo esprimere Un saluto Alla comunità Di Colle Danchise Fortemente Martoriata Dalla Diciamo Difficoltà Di questa pandemia Che abbiamo vissuto E il mio pensiero Va a tutti quelli Che non ci sono più Triplice appuntamento Questa sera a Campobasso Per Kiss Me Deadly All'auditorium Del Palazzo Gil Dalle 20 L'incontro Con Gianmarco Guazzo Su raccontare Il mistero Tra fiction In realtà A seguire la proiezione Del film Non Uccidere Di David Vittori La Closing Night Invece alle 22 Con la musica Dei Torino Unlimited Noise Fusione tra Jazz Elettronica E World Music E oggi in campo Il Rosso Blu Il Campobasso Inonda La trasmissione Curata Dalla redazione sportiva Appunto Rosso Blu Goal Dalle 20 In diretta Dalla tribuna stampa Di Selvapiana Per seguire Il debutto Casalingo Del Campobasso Contro il Taranto Nel post partita Le interviste live Dei protagonisti Della gara Dunque Rosso Blu Goal Inonda Questa sera Alle 20 Intanto Per Campobasso Taranto Altri 250 Biglietti Disponibili Per i tifosi Del Lupo Infatti Riparte E ripartita La prevendita Per i tifosi Del Campobasso In questi minuti Al Via 14.30 Solo per i residenti In Molise Sarà possibile Acquistare I Tagliandi Per il settore Curva Sud La vendita Sarà effettuata All'antica Tabaccheria Tizzano In Piazza Pepe 41 A Campobasso Prezzo unico 15 euro Questa era L'ultima notizia Del nostro Tg Delle 14 Dopo la sigla Le previsioni Meteo Poi la linea Ai colleghi Dello Sport Buon pomeriggio Buon fine settimana A tutti Tu da Fede Le previsioni Piedra 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 Piedra